che sono le 6, dai che è tardi, dai che sono le 6 e tardi, ai 6 e tardi, ma che te vanno la caccia, dove vanno? Dai che è tardi, ma donna mia che puzza di chiuso, dove credo ci ho addormito, non manco fatte le puzze per non rovinare le lenzuola, dai che è tardi apri stimbo